... Abbiamo mandato delle persone a Chinatown per mantenere l'area sotto controllo. Nei sotterranei una pattuglia ha avvistato dei purificatori intenti a fare qualcosa di lusco. Avevo detto loro di non seguirli, ma poi non ho ricevuto più notizie. Avranno sicuramente bisogno di rinforzi. Ci pensiamo noi. Grazie a tutti. 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 l'ha bruciato vivo. Speriamo di essere in tempo per salvare Steph e Petra. Fai in fretta gente, ti prego. Speriamo di essere in fretta. 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 Oh, grazie. I purificatori setacciano l'area bruciando tutto ciò che incontrano. Hanno preso Thomas, ma credo che Petra sia ancora viva. Dobbiamo trovarla e uscire di qui. Possiamo ancora recuperare qualcosa da questo casino. Fai ciò che devi, agente. Speriamo di essere in fretta. 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 Hanno sigillato tutte le porte quando è scoppiato il casino. ma tu sei in fretta. Sono certo che riuscirai a far saltare tutte le serrature che trovi. Speriamo di essere in fretta. La scoperta è in fretta. Speriamo. Grazie. 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 Richiesta assistenza medica immediata. Agente deceduto. Sono una grande fan della divisione. Ostili in arrivo rilevati. Difendi Steph da quegli sballati. Grazie. 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 Ancora. 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 Death. Mi dispiace. No. Maledetti. Non erano neanche infetti. Non ce lo vero! Non ti dà cazzo! Metti in sicurezza l'area. Non possiamo lasciarli continuare così. Questo gua non è equivalente. Questa viene qui. A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come possono uccidere tutte queste persone e dormire la notte? Mi spiace non aver potuto salvare gli altri. Manderò qualcuno a mettere il posto in sicurezza e a recuperare i corpi. Hai fatto tutto il possibile, agente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.